Mobilità lenta, parcheggi, pedonalizzazione. Verbagna si prepara ad aggiornare il proprio piano del traffico, uno strumento che pochi comuni posseggono e che il capoluogo del VCO ha adottato ormai una ventina di anni fa. Il Partito Democratico sta lavorando sull'argomento già da circa sei mesi, con un gruppo appositamente costituito, e i risultati della ricerca saranno presentati alla cittadinanza in un evento pubblico. Intanto però l'assessore alla Polizia Municipale, Giovanni Alba, sta curando una sorta di ricerca sugli obiettivi e le priorità nel concreto della situazione cittadina. Il primo filone da seguire, spiega Alba, è quello della mobilità lenta, con la realizzazione di una pista ciclabile che percorra tutta la costa-lago della città. Stanno già partendo, intanto, i lavori per la ciclabile su una fondotoce. Per favorire la mobilità lenta, però, è essenziale mettere a disposizione parcheggi in cui lasciare le auto e proseguire a piedi o in bicicletta. In questo senso, si intende alleggerire i parcheggi di Intra, con il nuovo multipiano, che sarà al servizio del Maggiore. Resta un obiettivo la pedonalizzazione del lungolago di Pallanza. Sarà possibile, spiega Alba, quando saremo in condizioni di fornire dei parcheggi in un raggio non troppo lungo. Stesso discorso vale persona, dove si cerca di sopperire con la chiusura di un senso di marcia per permettere di lasciare le auto in via Trubescoi, ma non è una soluzione definitiva. Ancora, però, non è stata individuata un'area per realizzare i parcheggi, ma se ne parla ormai da 30 anni. Con l'assessore all'ambiente Laura Sau, si porta avanti il dialogo con VCO Trasporti sulla mobilità sostenibile, mentre resta aperta la questione della messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sulla statale 34 del Lago Maggiore.